Uno dei miei piatti preferiti linguine al pesto senza ombra di dubbio andiamo a pulire nostro basilico dopodiché olio ghiaccio molto importante aglio sale pepe e pinoli mini frullatura aggiungiamo le nostre foglie di basilico e voilà max è brillante sapore assicurato aggiungiamo il parmigiano e un po di pecorino versiamo in un contenitore in pellicoliamo con pellicola a contatto prima però assaggiamo e dopodiché lasciamo raffreddare rapprendere un po all'interno del nostro frigo di verifero giusto per una decina di minuti il tempo di cuocere le nostre linguine dopodiché versiamo in una ciotola a freddo perché il calore ossida il verde brillante del basilico mantechiamo e impiattiamo qualche garnish un po di pecorino grattugiato qualche pinolo e foglie di basilico ragazzi lasciate un bel like e ci vediamo al prossimo video